Ciao per test.it, terzo film di un regista di Brighton, terzo lungometraggio Metro Manila di un regista di Brighton, quindi inglese, classe 1970, arrivato poi al quarto lungometraggio perché questo lungometraggio, il terzo, di Sean Ellis, è pensato del lontanissimo 2013, Metro Manila, Sean Ellis, classe 1970, nato a Brighton, va a fare un film nelle Filippine. Si parte dalla provincia di Banaue dove ci sono tutte queste terrazze dove si coltiva il riso e questa famiglia poverissima non riesce più a vivere coltivando il riso. Allora da Banaue, da questa provincia delle Filippine dove ci sono queste terrazze bellissime, molto bella da vedere ma non c'è più lavoro, la famiglia di Oscar Ramirez si deve trasferire nella metropoli di Manila. Ma a Manila è peggio che a Banaue, nel senso che lì non riesce più a crescere il riso. A Manila il riso proprio manca dai volti dei Filippini perché è una metropoli dove sembra che si possa andare avanti solo attraverso il cinismo, la corruzione e la possibilità di fare qualsiasi cosa pur di tirare avanti durante la giornata. Allora questa famiglia molto dignitosa di contadini, Filippini, lui, lei, due figlie molto piccoli, due bambini molto piccoli, problemi ai denti, problemi di fame, non riescono proprio a tirare avanti, non hanno nemmeno una casa. Lui diventerà una guardia di sicurezza di una strana società che si occupa di cassette di sicurezza e del loro trasporto e della loro gestione, un lavoro molto particolare. Lei andrà in un bar e devi parlare con Charlie, il proprietario del bar, uno dice vabbè adesso vediamo il ciccione viscido, in realtà Charlie è ancora peggio del ciccione viscido che tratta le prostitute o comunque le ragazze da bar che devono far bere i clienti perché Charlie è una donna. Ed è ancora più terrificante vedere una donna trattare male e, non dico indurre alla prostituzione, ma quasi un'altra donna. Ed è uno dei tanti, è uno dei tanti assi nella manica di questo bellissimo film, Metro Manila, che parte come socio realismo e poi diventa un crime thriller metropolitano, bellissimo e non vi dico altro perché il decentissimo Oscar Ramirez, questo contadino di Banaue, arrivato a Manila e cercando di sbarcare Lunario con la sua famiglia, interpretato alla grande da Jake Makapagal, non so se si pronuncia così Jake, ma bravissimo, con dei dentoni molto belli, molto dignitosi e da brava persona, incontrerà Ong, O-N-G, che non è un'associazione non governativa, ma è il, diciamo, colui che sarà il suo mentore nel lavoro di guardia di sicurezza, Ong, interpretato dal grandissimo John Arsia, lui è un, sono tutti e due attori filippini, sia Jake che John, e John Arsia è molto noto nelle Filippine, lui è proprio nato a Metro Manila. Ok, va bene, era ambientato nelle Filippine anche il film di 240 ore, no, di 3 ore e 40 minuti, vabbè, quello di Love Diaz, che ha vinto l'ultimo leone d'oro a Venezia in bianco e nero, The Woman Who Left, di Love Diaz, e anche quello era un noir, anche in quello c'era una delle Filippine che, mamma mia, meno male che sono nato in Italia, infatti, guardate, questo è un film che, diciamo, mi ha fatto molto ripensare ai vent'anni in cui sono diventato unichilista dal punto di vista politico in Italia, nel 1994-2014, ho pensato, beh, lo sai che se nascevo nelle Filippine forse era pure peggio? Quindi è un film che, sia a quelli della mia generazione, ma forse anche a voi, a quelli più giovani, che siete anche più disperati di noi, è un film che ci fa rivalutare molto l'esperienza di essere italiani, e di questi tempi, signori miei, non è poco, quindi Metro Manila mi è piaciuto anche per questo, cioè pensi che culo che sono italiano, nonostante tutti i nostri problemi, perché? Perché queste Filippine sarà anche l'ottica britannica del buon Sean Ellis, che comunque è un bravissimo regista, che non disprezza minimamente, che non ha un'ottica colonialista, però devo dire, ragazzi, che non è che proprio emerga un ritratto delle Filippine particolarmente edificante, anzi, c'hai paura, anzi, pensi, sai che c'è pure l'Italia di merda del ventennio che non è finito, 1994-2014 rispetto a queste Filippine, e vai! Benissimo, meglio l'Italia! Allora, cassetti di sicurezza, doppi giochi, noir, prostituzione, la famiglia per bene, ce la farà la famiglia per bene a resistere a queste Filippine terrificanti? Il film è andato benissimo, presentato al Sundance nel 2013, sì, è un film vecchio, Metro Manila, però andatevelo a vedere anche se il 2017, perché non è invecchiato, ha vinto un premio molto importante al Sundance Film Festival, che l'ha lanciato a livello internazionale, e poi è stato anche addirittura nominato al BAFTA, che è un premio molto importante, è l'Oscar inglese, come miglior film straniero. Indovinate da chi ha perso? La grande bellezza di un certo Paulus Sorrentino, benissimo. Metro Manila, devo dire che veramente niente e niente male, che c'è un po' d'Italia, sì, c'è un po' d'Italia attraverso l'opera. Noi abbiamo dato l'opera al mondo, ed è una delle tante cose belle che abbiamo fatto noi italiani, tanto tempo fa, quando facevamo cose belle. Qui c'è Lavallì, da Catalani, un'aria della Lavallì, e poi c'è un'aria meravigliosa dal Gianni Schicchi, di Giacomo Cuccini. E l'opera è molto importante per uno dei due personaggi. Scoprite se è molto importante per Ong, il mentore durante il lavoro di Guardia di Sicurezza, di Oscar Ramirez, o per Oscar Ramirez. Per chi dei due è molto importante ascoltare ogni tanto l'opera italiana? Ok? Metro Manila, Sean Ellis, regista inglese, social drama più noir ambientato nelle Filippine, attori filippini, linguaggio filippino, che mi piace tantissimo la lingua anche nel film di Lav Diaz, e queste Filippine che c'erano anche nel film di Lav Diaz, terribili, dove i criminali, addirittura peggio che in Italia, sembra che possano fare esattamente quello che vogliono, e sembra che ci sia una totale mancanza di decenza morale, sociale, nelle leggi, nei politici. Emerge l'idea di un paese completamente allo sbando, quindi un paese perfetto in cui ambientare un noir, dove veramente la nostra vita è in pericolo, e qualsiasi nostra scelta può essere decisiva, letale o vitale, ma comunque decisiva. Metro Manila, Sean Ellis, un bellissimo film di molto tempo fa, ma che potete vedere e potete amare anche in questo 2017. Ciao Betteist!